E' stata depositata un'interrogazione in Consiglio regionale sullo stato di avanzamento dei lavori del raddoppio ferroviario del tratto Pistoia-Lucca. Lavori già finanziati nel 2015 con 450 milioni di euro. L'atto è stato presentato da Stefano Scaramelli, consigliere regionale del gruppo d'Italia Viva. Non sono più tollerabili, scrive nel documento Scaramelli, i ritardi dei lavori per il raddoppio ferroviario nel tratto Pistoia-Lucca, già interamente finanziati. Gli oltre due anni e mezzo di ritardi rispetto a quando inizialmente previsto richiedono un approfondimento e un'indagine conoscitiva urgenti. Sulla questione è intervenuta anche la sezione lucchese del partito. La scorsa settimana, infatti, Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva e Francesco Colucci per i riformisti, avevano chiesto informazioni sullo stato dell'arte dei lavori. Il raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca, ma anche le tempistiche della messa in servizio del tratto Pistoia-Monticatini, sono indispensabili, spiega Baccini. In questo territorio abbiamo anni di ritardi nei lavori e sono totalmente assenti anche informazioni sull'apertura dei cantieri per il raddoppio ferroviario del tratto Monte-Catini-Lucca, che dovevano partire nel 2020. Nell'atto depositato in Consiglio regionale, Scaramelli chiede di sapere quando è previsto il termine dei lavori e la messa in funzione della tratta relativa al primo lotto Pistoia-Monticatini da 200 milioni di euro e quando è previsto l'inizio dei lavori del secondo lotto, quello relativo alla tratta Monte-Catini-Lucca, da 250 milioni di euro. Sulle tempistiche l'atto interroga la Giunta per sapere se i finanziamenti previsti per l'opera siano sufficienti per il suo completamento, anche alla luce del recente aumento dei costi delle materie prime e qual è il crono programma dei lavori con riferimento alla seconda tratta, ovvero quella tra Monte-Catini e Lucca, con il termine dei lavori e la messa in funzione.